Il santo di oggi San Gerlando d'Agrigento è stato vescovo riordinò la sua chiesa liberata dal potere dei Saraceni il sole è sorto alle 6.51 tremonterà alle 17.51 oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori massimi un po' di vento sulle fasce collinari costiere dal Garbino poi avremo vento caldo nel pomeriggio mentre domani la pioggia la pioggia al mattino con brevi piovaschi sparsi nelle zone interne ed occasionali altrove nel pomeriggio di domani avremo anche rovesci sparsi un po' su tutta la regione con il limite delle nevicate in calo fin verso i 900 metri le temperature minime sono in lieve aumento e le massime invece stazionarie mentre diminuiranno nel pomeriggio per l'ingresso di aria fredda l'ingresso di aria fredda dunque che porterà anche qualche pioggia mista qualche nevicata mista pioggia anche sui monti ma per quanto riguarda il vento attenzione perché domani avremo venti di raffiche fino a tempesta nelle zone interne e burrasca forte sulla fascia collinare dunque domani sarà un'altra giornata ventosa ma giovedì migliora il tempo e praticamente il vento spazzera via tutte le nuvole e avremo un giovedì soleggiato con le temperature che però saranno ancora in diminuzione ma continueranno i venti tesi con raffiche fino a burrasca lungo la costa quindi il vento continuerà a soffiare anche nella giornata di giovedì ma poi da giovedì insomma fino alla fine della settimana avremo ancora tempo soleggiato e sereno vediamo le previsioni delle temperature per la giornata di oggi oggi alle 14 ancora temperature piuttosto elevate Ascoli Piceno toccherà i 19 gradi Pesaro Fano 18 quindi sarà una giornata che soprattutto per effetto del Garbino nel pomeriggio avremo quindi queste temperature assolutamente più che primaverili per quanto riguarda invece dopo domani scusate domani mercoledì ancora temperature che sono sono sopra la media ma vedete di qualche grado sotto se oggi a Pesaro Fano abbiamo avremo 18 gradi 18-19 gradi domani ne avremo 16 andiamo velocemente adesso invece a vedere i giornali naturalmente il coronavirus è l'argomento principe di questa rassegna stampa tante sono le pagine anche perché ieri mattina in conferenza stampa una conferenza che vi abbiamo trasmesso anche su Fano TV il presidente della regione Ceriscioli stava per annunciare la firma di un'ordinanza che avrebbe bloccato chiuso le scuole e le manifestazioni pubbliche una conferenza stampa che però è stata è stata fermata un'ordinanza che è stata bloccata direttamente dal premier Conte di questo parlano soprattutto i giornali questa mattina Marche blindate da domani quindi posticipato soltanto di 24 ore Conte stoppa tutto appunto per 24 ore ma oggi arriva l'ordinanza per arginare l'epidemia emergenza coronavirus Ceriscioli annuncia scuole chiuse e niente manifestazioni scatta l'allerta per una donna un sospetto contagio affano che è rientrato poi in serata quando gli esami hanno dato esito negativo la prensione collettiva tra voci incontrollate è stata davvero fortissima nella giornata di ieri soprattutto affano Urbino Off Limits invece l'università no neanche fossimo nell'antico Ducato Gambini sindaco di Urbino ha deciso in autonomia di chiudere per tre giorni da oggi tutte le scuole l'Ateneo invece resta aperto senza materie prime avanti un solo mese il virus blocca le materie prime dalla Cina poi c'è il guaio dei calendari fieristici sfalsati che sbalano gli ordini industriali dunque una regione in una regione manufatturiera come siamo noi il telelavoro non esiste e poi il reportage del Corriere Adriatico dove nascono le mascherine niente pranzo per farne di più siamo a Civitanova dove c'è una delle aziende forse l'unica delle marche nel centro Italia insomma che realizza l'oggetto più richiesto del momento oltre alla mucchina da borsa che sono appunto le mascherine a casa delle mascherine anticontagio l'oggetto di questa emergenza l'azienda che le produce è quella di Alberto Angelini abbiamo superato dice quota 120 milioni di pezzi e dobbiamo smistarle nel più breve tempo possibile questa invece è la prima pagina del resto del carino di Pesaro a centro pagina la fotografia di Ceriscioli durante la conferenza di ieri pasticcio coronavirus questo è il titolo scuole chiuse ma Conte lo stoppa in diretta oggi la decisione finale obbligo per chi è stato in unico in cui si sono sviluppati i focolai di chiamare il dipartimento di prevenzione c'è anche un numero verde che ha a disposizione l'893 66 77 c'è un contagio rischia la denuncia questo invece è l'altro titolo del Corriere una donna che ha mandato un vocale su Whatsapp e che ha creato praticamente il panico studente dice lei positivo ma è falso ora potrebbe finire nei guai per procurato allarme l'ex leader della DC i forlani sulle vie dedicate a Nilde Iotte e Craxi loro avrebbero detto no poi a Lucrezia una fuga di gas alla materna evacuati in 25 sempre per quanto riguarda il coronavirus a centro pagina ho la febbre a 40 ore di paura poi il sollievo il test risultato negativo il sindaco Gambini fa da solo gli studenti restano a casa poi c'è l'assalto alle farmacie introvabili le mascherine e anche la mucchina mentre niente fondi dalla commissione sul cinema per il film con Vanessa Incontrada snobbato dal Regione Marche Via Lamarca a Pesaro è chiusa è l'ora dei lavori prevista la riapertura per i primi di maggio interventi in arrivo anche al Cavalca Ferrovie tutte le scuole chiuse per una settimana ma Conte rinvia lo stop siamo nelle pagine interne del Corriere Adriatico Ceriscioli annuncia l'ordinanza anticontagio la telefonata del Premier però lo ferma decisione aggiornata ad oggi questa mattina alle 10 a Roma c'è l'incontro di Conte con tutti i presidenti di Regione per questo coordinamento oltre alle elezioni saranno bloccati sport e manifestazioni le misure in stand by cioè in attesa di essere approvate con questa ordinanza che stando appunto a quello che si dice dovrebbe essere comunque firmata oggi quindi posticipata sospesa soltanto di 24 ore prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutta la Regione Marche dall'asilo all'università la chiusura dei poli museali nessuna indicazione è stata data però per i cinema e i teatri ma ci hanno pensato da soli si sono praticamente vuoti tra l'altro ieri è arrivata c'è arrivata una comunicazione che neanche coming soon verrà prodotta in questi giorni perché è tutto bloccato quindi neanche la rubrica cinematografica che vi trasmettiamo quotidianamente saranno vietate le manifestazioni pubbliche come le sfilate di carnevale ma ormai siamo in quaresima bisognerà vedere per quei paesi che hanno iniziative anche durante il periodo quaresimale comunque sospesi i campionati di ogni disciplina sportiva compresi i tornei giovanili poi in questa in questa ordinanza ci dovrebbe essere l'obbligo di autodenuncia per chi rientra nelle marche da viaggi fatti negli ultimi 14 giorni nelle zone rosse la Cina o i comuni del nord sottoposti a isolamento sanitario e poi la quarantena volontaria per chi arriva da zone rosse o obbligatoria se ci sono anche sintomi influenzali disinfestazione dei treni regionali e delle sale di attesa e controlli sanitari accentuati nelle frontiere di porto e aeroporto poi l'unica cosa che invece è attiva dalla mezzanotte di oggi anzi no dalle 8 alle 20 però è attivo praticamente sì da oggi è il numero verde che sarà attivo nelle marche per avere informazioni sul coronavirus l'abbiamo già detto 893 66 77 la decisione è quella di questa ordinanza regionale che verrà adeguata a queste linee nazionali quindi in base a quello che si diranno questa mattina a Roma probabilmente verrà limata se ci saranno delle limature da fare poi nel caso in cui tutto andrà per il verso giusto questa ordinanza dovrebbe essere firmata già questa mattina sempre dal governatore Ceriscioli governatore Ceriscioli che come vedete in questa fotografia c'è un fermo immagine di lui che risponde ad una telefonata durante la conferenza stampa e chi era al telefono Conte appunto che gli stava chiedendo di bloccare tutto quanto poi vedremo che ci sono state anche delle polemiche un attacco piuttosto duro da parte delle opposizioni da Matteo Salvini in poi verso questa telefonata che ha fatto appunto Conte al governatore scuole chiuse no manifestazioni ma Conte in diretta decidiamo noi dice da Roma atmosfera surreale durante la conferenza stampa del governatore delle Marche tutto in stand by tutto in attesa quindi fino al coordinamento nazionale con il governo 16 casi sospetti 0 contagi negativi gli ultimi 6 tamponi ancora nessun marchigiano infettato possiamo dire quindi che il coronavirus per ora è fuori dalla nostra regione fuori dalle Marche girano però le bufale girano le bufale e qualcuna è anche pesante e probabilmente avrà degli strascichi in tribunale 16 a 0 quindi tutti negativi è il bilancio dell'ennesima giornata con il fiato sospeso con voci di contagi che si rincorrono senza fondamento aggiorna quindi la contabilità dei pazienti marchigiani sottoposti al test del coronavirus dal 27 gennaio perché il 27 gennaio perché il 27 gennaio è il giorno in cui si è insediato il GORES che è l'ente che praticamente svolge le funzioni di controllo di coordinamento e quant'altro dal 27 gennaio fino a ieri sono state sottoposte 16 persone che però hanno dato tutti esiti negativi erano 10 in tarda mattinata poi nel pomeriggio si sono aggiunti 6 casi sospetti nella giornata di ieri ma anche gli ultimi tamponi che sono stati analizzati dal laboratorio dell'ospedale di Torrette di Ancona che è il centro di riferimento regionale hanno dato risultati negativi quindi ancora lo ripetiamo fino alla nausea nessun contagio accertato al covid-19 cioè al coronavirus appunto che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo gli ultimi campioni che sono arrivati ieri per essere analizzati dicevamo 6 arrivavano da Senigallia da Fano 2 da Ancona e 2 da Macerata dunque chi parla di pazienti infetti nelle Marche diffonde bufale e come dicevamo sono circolate con insistenza voci di tamponi con esito positivo ma tutto questo è stato appunto smentito poi ancora sempre dal Corriere Adriatico ecco Salvini governatore nel Mirino dietro front inaccettabile Salvini attacca e parla di pasticcio Acquaroli che è il candidato di Fratelli d'Italia ma in pector ma ancora non è nulla di fucile ma comunque dice Acquaroli dice Ceriscioli è commissariato di fatto l'annuncio infatti in diretta sui canali social della Regione e poi questo dietro front fa dire a Salvini incredibile pasticcio della Regione che prima annuncia un'ordinanza per chiudere le scuole e poi se le rimangia su richiesta del Premier Conte o ha sbagliato Conte oppure ha sbagliato Ceriscioli chi si prende dunque la responsabilità di tutelare i marchigiani si domanda Matteo Salvini della Lega e poi sempre dal Corriere Adriatico scatta l'allerta per una donna ore tese poi l'incubo svanisce una giornata di apprensione per il caso sospetto di una paziente all'ospedale Santa Croce di Fano in serata l'esito del test che era negativo Marche Nord modifica invece la modalità di accesso ai punti di prelievo sempre su questo falso allarme il resto del Carlino sto male ho la febbre a 40 ore di paura test negativo tutti con il fiato sospeso per una donna tornata dal Nord si è rappresentata al Santa Croce di Fano anche con problemi respiratori test effettuato a muraglia sei i tamponi effettuati nelle Marche e come abbiamo visto non non ci sono positività è tornato dalla Cina il virus questa è un'altra bufala una mamma che a Fano ha scatenato praticamente il panico ma per fortuna è tutto falso un fanese una fanese fa circolare su WhatsApp la notizia del contagio di un ragazzo un ragazzino lo chiama lei a dire il vero al liceo scientifico Dottorelli la scuola smentisce si è messo in quarantena volontaria sta benissimo non bene e la donna adesso però rischia una denuncia rischia una denuncia per procurato allarme proprio per aver fatto circolare sulla chat dei genitori ma evidentemente poi è arrivata a noi ne saranno arrivate una decina così come agli altri a tantissima gente perché poi si è diffusa veramente alla velocità della luce ed è arrivata anche alla scuola la preside Renata Falcomer che la preside del liceo scientifico che gestisce 1250 allievi e ai quali soprattutto ai genitori ha dovuto rassicurare dicendo guardate che sono notizie assolutamente false perché il ragazzino sta bene si è messo giustamente in quarantena volontaria e non ha avuto nessun problema anzi la preside rilancia e dice scrive chi diffonde notizie divergenti sui social potrà essere perseguito per procurato allarme e quindi questa è la situazione mentre 60 liceali del Mammiani sono bloccati a Siviglia il preside l'isotidice assurda bufala da social tra le fake news circolate ieri c'era anche quella che avrebbe visto come protagonista un gruppo di studenti del Mammiani in gita a Siviglia secondo voci sui social appunto queste persone erano impedite nel tornare dalla Spagna per fortuna era tutto falso poi c'è tornando sul Corriere Adriatico la dichiarazione del Presidente dell'Ordine della Provincia di Pesurbino dei Medici ovvero Paolo Maria Battestini che dice in trincea siamo in trincea per il bene di tutti noi medici in prima linea dobbiamo però essere protetti anche perché ci sono soprattutto loro in trincea insieme ai colleghi degli ospedali e delle strutture pubbliche è per questo che il Presidente Battestini sta passando giorni incollato al telefono stretto contatto con la segreteria nazionale del sindacato ci sono già arrivate delle comunicazioni che ci spiegano dice quali comportamenti mantenere e che tipo di protocollo seguire sono disposizioni nazionali che a cascata vengono adeguate su scala locale se volete c'è la dichiarazione di Battestini rilasciata anche al nostro telegiornale Occhio alla notizia che potrete vedere tra poco o comunque nel corso della mattinata oppure on demand sui nostri siti sul sito e sulle pagine social mentre il Presidente di Aspes Luca Pieri dice abbiamo già ordinato gel per le mani e anche i disinfettanti Pieri che invita anche alla calma ci vorranno dei giorni nelle farmacie di Pesaro sono andate tutte esaurite le scorte di gel per le mani la mucchina e i disinfettanti prodotti ordinati ma non arriveranno prima di mercoledì o giovedì dicono dalle farmacie anche le mascherine scarseggiano le file ai supermercati gli scaffali si svuotano insomma l'emergenza coronavirus inizia a far sentire gli effetti da psicosi anche nel Pesarese in particolare per quanto riguarda la corsa ad acquistare i prodotti per l'igiene e i beni di prima necessità Pesaro resta comunque al momento ma ripeto la situazione è in evoluzione quindi capirete da soli che mentre stiamo parlando noi in questo momento siamo in diretta alle 7.20 non è che la voglio tirare a nessuno ma insomma è chiaro che in una situazione come questa è tutto in evoluzione di conseguenza siamo qui adesso a parlare di zona verde e poi magari fra un paio d'ore o fra un'ora o fra cinque minuti tutto cambia perché perché siamo comunque restiamo in una situazione particolare una situazione di emergenza Pesaro in questo momento è in una zona verde non c'è nessuna emergenza dice anche il il sindaco o meglio sì in serata c'è stato questo comitato su ordine e sicurezza che ha tranquillizzato il prefetto dice c'è la situazione monitorata quindi il prefetto che rassicura si consiglia di attenersi al decalogo del ministero della sanità confermate le iniziative programmate quindi vale per ora il decalogo antipanico che se volete ma ormai ve l'abbiamo detto cento volte ma comunque è sempre importante ricordarselo soprattutto quando si è presi dal panico che si fanno cose che non hanno senso allora il decalogo antipanico prevede semplicemente di lavarsi spesso le mani di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute non toccarsi occhi naso bocca e mani coprirsi bocca e naso se stannutisci o tossisci non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro oppure alcol usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate i prodotti made in cina e i pacchi ricevuti dalla cina non sono pericolosi contattare il numero verde 15 00 se hai la febbre o la tosse oppure se sei tornato dalla cina da meno di 14 giorni e poi l'ultima cosa che va detta è che gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus perché inizialmente si parlava anche di gatti cani eccetera che potevano essere veicoli eccetera ma non è così Gambini invece chiude le scuole e dice ho sollecitato ho chiesto all'Ateneo all'università di fare la stessa cosa ma abbiamo sentito che Stocchi è andato invece ha seguito la linea della della prefettura e quindi del governo l'università resta aperta anzi so che ci sono stati malumori ieri per qualcuno che ha deciso di chiudere qualche di chiudere per esempio giurisprudenza sono iniziative personali una cosa che insomma non è stata ben digerita ma comunque a Urbino ordinanza autonoma in vigore da oggi fino a giovedì e quindi questa è la decisione mantenuta fino alla fine con determinazione da Gambini sindaco di Urbino poi sempre sul resto del Carlino Gambini fa tutto da solo da noi gli studenti restano a casa il sindaco tira dritto in prefettura mi hanno chiesto dice lui di ritirare l'ordinanza ma io vado avanti Ricci dice di agire in maniera coordinata ma non si poteva aspettare ancora bisogna prevedire è vero che Urbino è una situazione un caso un po' particolare perché a Urbino arrivano studenti da tutta Italia e dunque la situazione effettivamente potrebbe essere diversa evidentemente Gambini ha sentito il dovere di correre e di non aspettare ulteriormente l'Ateneo invece resterà aperto il rettore Stocchi dice aspettiamo la conferenza Stato-Regioni di questa mattina mentre lo sport si ferma si ferma la VL il basket la Vispesaro il Fano rinviato anche il salone dello studente mentre come dicevamo la mucchina eccola qua dove il distributore che è stato installato al bar Romeo un disinfettante che assicura il gelo dei clienti ha installato ieri mattina per plecare l'effetto panico forse non allontanerà la paura però qualcuno dice insomma darà un po' di tranquillità a chi vuole continuare a fare colazione con cappuccino e cornetto senza problemi le fabbriche invece si blindano la profigla Safano Bellocchi fermati i tecnici provenienti dal nord Italia Scavolini bloccate invece le missioni dei dipendenti stessa cosa alla BS tutti quanti si stanno attrezzando per evitare i rischi e quindi si fanno incontri a distanza con le videoconferenze cioè ci si guarda attraverso dei monitor e quindi si evita il contatto Marche Multiservizi invece invita gli utenti ad usare il telefono e quindi a non recarsi allo sportello lettera dei mobilieri chiedono un rinvio dell'Eurocucine preoccupazioni per il salone del mobile di Milano prenotate una trentina di aziende della provincia la manifestazione dovrebbe partire nel capoluogo Lombardo a Milano il 21 di aprile si teme un possibile deserto e panico c'è l'assalto alle farmacie mascherine a mucchina introvabili cartelli appesi all'ingresso per avvertire che protezioni igienizzanti per le mani sono finiti Ronconi è un via vai continuo Riccioli invece aspettiamo i rifornimenti astuti caos immotivato fatto sta che mascherine a mucchina da borsa sono esaurite addirittura su Amazon qualcuno le vende la mucchina a 200 euro quindi siamo veramente alla follia il tasso di mortalità è bassissimo riguarda soprattutto persone in età avanzata dice così il vicepresidente dell'ordine ok ci sta ma non è proprio non è proprio così che bisognerebbe metterla ma vabbè se serve per abbassare un po' e per placare un po' meglio va bene ma insomma non è proprio un ragionamento così corretto al 100% l'Inps chiude i battenti fino alla data da destinarsi considerati i potenziali rischi connessi alla diffusione del Covid-19 dunque l'Inps fino a data da destinarsi ha deciso di chiudere gli sportelli quindi se avete intenzione di andare all'Inps sappiate che è chiuso il Corriere Adriatico ha fatto un salto al centro dove si a Civitanova Marche dove si realizzano le mascherine e questa è la fotografia di questa gente di questi operai di questi dirigenti che stanno lavorando giorno e notte perché dicono loro ce ne hanno chiesti 120 milioni di pezzi e dice non è finita qui dall'esercito all'Enel così tuteliamo i nostri connazionali andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Fano ieri c'è stato il Consiglio dei Bambini Consiglio dei Bambini che ha bocciato il Carnevale parla di ambiente infatti ma non è ecologico una seduta preseduta da Giomaro che è il sindaco del Carnevale fino ad oggi perché oggi poi decade con la chiusura del Carnevale con il Martedì Grasso Giomaro che vorrebbe anche nelle scuole i cartelli sulla vulnerabilità sismica dicevamo che i bambini hanno criticato soprattutto il fatto per esempio che i trattori non sono ecologici che ancora vendono le bombolette spray durante le sfilate di Carnevale così come non ci sono per ragioni di sicurezza a dire il vero all'interno del percorso bidoni per la raccolta differenziata Ruggeri corre per la regione Marche con Marotti esclusa dalla lista definiti i nomi del Movimento 5 Stelle la consigliera comunale come Minardi nel 2015 ma dice io mi dimetterò maltrattamenti e violenza sessuale la cronaca sul Corriere di oggi l'arresto scatta dopo le medicazioni sono due episodi che racconta il giornale questa mattina il primo caso è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Fano dopo una litigata prolungata durante tutta la notte i medici hanno riscontrato alcuni tagli nella schiena ad una donna probabilmente le sono stati inferti con un cacciavite dal marito il marito che è stato poi arrestato dalla polizia è un marocchino operaio poco più che trentenne e che appunto è marito di questa donna marito che ha dato un figlio a questa donna che però durante il litigio avrebbe preso per i capelli avrebbe minacciato di lanciarlo di sotto dal balcone quindi una situazione davvero terribile l'uomo è stato arrestato e la Cecchi l'ha tenuto in carcere o meglio gli ha dato i domiciliari adesso si trova a casa del fratello volta invece la seconda il secondo episodio di violenza a Tavernelle di Fano nella notte tra sabato e domenica un ragazzo italiano di 25 anni che era ubriaco ha cominciato da addosso a inveire contro la fidanzata con la quale sta e vive da pochi mesi un litigio degenerato anche qui hanno chiamato il 112 sono arrivati i carabinieri di Colli al Metauro lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia fuga di gas invece a Lucrezia rischio all'ex scuola evacuati dalle case 25 residenti è tutto per la rassegna stampa grazie per essere stati con noi ci vediamo stasera ma come sempre se ci sono aggiornamenti restate su Fano TV perché come sempre come è successo anche ieri andremo in diretta in edizione straordinaria e vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus anche sul sito internet occhialanotizia.it arrivederci a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.